Ora passiamo la parola al giudice Turumello che è un magistrato amministrativo del Tar Palermo e che io ho il piacere di ascoltare perché io ritengo che il giudice amministrativo abbia svolto un ruolo positivo di contenimento di certi eccessi dello strumento dell'informativa prefettizia anche perché il giudice amministrativo ha una gloriosa tradizione garantista sicché anche con questo voglio soltanto dire che quelli che pensano di passare la giurisdizione a giudice civile una follia giudice civile non si caverebbe un ragno dal buco di fronte a un provvedimento amministrativo soltanto il giudice amministrativo con le regole garantiste del diritto pubblico è capace di effettuare un qualche controllo non ne parliamo di qualcuno che forse è accennato all'idea che se ne occupi forse il giudice della prevenzione perché questo determinebbe una sovrapposizione ingovernabile perché il giudice della prevenzione dovrebbe giudicare degli effetti interdittivi dell'informativa e poi della sua misura di prevenzione ho finito, passo la parola al giudice Tulumani che ha soltanto 20 minuti per colpa del moderatore ne oserò di meno ringrazio l'università di Palermo per questo invito e sono sufficientemente navigato per ritenere che se in un venerdì pomeriggio primaverile tutte queste persone sono rimaste fino a quest'ora non è per sentire me ma per sentire il relatore che verrà dopo di me che incidentalmente fa il ministro della giustizia quindi cercherò di rendere il più indolore possibile questo tipo di intervento tre quarti della relazione è stata fatta dal professor Mazzamuto quindi posso ulteriormente passare all'ultimo quarto che mi resta e che mi è stato sollecitato anche dal prefetto Frattasi che riguarda il problema della competenza territoriale io non mi sono mai entusiasmato ai problemi di competenza territoriale e meno che mai me ne possa entusiasmare ora perché leggevo sulla rassegna stampa di stamattina che l'ultimo intervento del Presidente del Consiglio in materia di giustizia amministrativa è la soppressione dei tar e la creazione di tre tar uno al centro, uno al nord e uno al sud quindi tutto quello che abbiamo studiato finora sulla competenza territoriale lo possiamo momentaneamente archiviare e ristudiarcelo quando avremo soltanto tre tar il problema a cui accennavano entrambi i relatori era questo che cioè la giurisprudenza della donanza penaria ritiene che la competenza a conoscere la legittimità dell'informativa non sia del tar competente in funzione della prefettura che ha emesso l'informativa ma sia del tar competente in funzione dell'atto applicativo di quell'informativa cioè dell'atto amministrativo che toglie il contratto annulla in autotutela una giudicazione e così via regola che è in qualche modo opposta a quella tradizionalmente usata dalla giurisprudenza nel rapporto tra atto presupposto e atto applicativo però qui la donanza penaria ha ritenuto che l'informativa prefettizia non è un atto presupposto nel senso che non è un atto a portata generale né ha efficacia nell'intero territorio nazionale cioè ha usato il criterio dell'effetto diretto circoscritto per cui l'effetto lesivo dell'informativa si manifesterebbe sul contratto e quindi il giudice è il giudice del luogo del contratto apprendiamo dal prefetto Frattasi che è in itinere una modifica normativa di segno opposto tendente a superare questa giurisprudenza della donanza plenaria tenete presente che forse appunto non avendo più i tarro avendone solo tre dovrete rivedere pure questa brevissimi cenni al sistema del controllo sulle informative per capire di cosa parliamo conoscevamo prima del codice antimafia le informative cosiddette tipiche a carattere vincolante cioè quelle informative con cui la prefettura dice all'amministrazione appaltante che una certa impresa è a rischio di infiltrazione e rispetto alla quale l'amministrazione appaltante non può assumere alcuna valutazione discrezionale ma deve escludere questa impresa dall'accesso alle commesse pubbliche c'era poi l'informativa tipica in cui si diceva non si può escludere che e si rimetteva all'amministrazione aggiudicatrice la scelta se escludere questa impresa dal circuito dell'economia legale oppure no dice bene il professor Mazzaputo era un istituto fondato su una grandissima ipocrisia istituzionale perché mai nessuna amministrazione aggiudicatrice avrebbe assunto la scelta impopolare pericolosa di andare contro un suggerimento della prefettura sia pure un suggerimento incompiuto e quindi di fatto l'informativa tipica diventava tipica c'era poi la vicenda dei protocolli di legalità in cui sostanzialmente in maniera preventiva si stabiliva che qualora l'impresa fosse stata colpita da informativa tipica in violazione del protocollo che essa stessa avrebbe sottoscritto e qui dovremmo organizzare un convegno sul diritto civile dell'antimafia cioè se si possa ancora chiamare un contratto sostanzialmente obbligato cioè in cui si dice alla parte se tu vuoi contrarre con la pubblica amministrazione devi aderire ad uno statuto negoziale che io ho predisposto in base a regole in buona parte anche illegittime, quale questa perché è stata annullata da tutti i tar d'Italia che se ne sono occupati perché si è detto che non può un protocollo prevedere in via preventiva che l'informativa tipica comporterà l'esclusione dobbiamo andare a vedere se in concreto quel controllo sostanziale di cui parlava poco fa il prefetto Frattasi questo rischio c'è si arriva al codice antimafia che abroga ma non abroga l'informativa atipica perché sostanzialmente il correttivo esclude il famoso articolo 1 septies dalle abrogazioni tanto che io stamattina ho fatto una ricerca sulla più autorevole banca dati e l'articolo 1 septies risulta vigente a oggi quindi la possibilità per le prefetture di comunicare informazioni alle pubbliche amministrazioni circa le frequentazioni, i contatti mafiosi di una persona o di un'impresa sostizia sempre ma qual è l'istituto giuridico di riferimento? L'istituto giuridico è una categoria che è filosofica prima che giuridica è la categoria del rischio cioè si vuole evitare il rischio di infiltrazione mafiosa si vuole con questi istituti evitare che un'impresa che in sé magari è anche sana ma sulla quale gravitano gli appetiti mafiosi magari grazie anche a dei contatti acceda all'economia legale e in particolare all'economia pubblica ma il rischio è qualcosa di diverso dal sospetto cioè il rischio è una categoria logica che sia ancora dei parametri quanto meno ragionevoli e qui si è articolata la giurisprudenza amministrativa che ha effettuato quello che il prefetto Frattasi è chiamato il controllo sostanziale cioè si è andati a vedere poi in cosa consistessero questi elementi e nel verificare se questi elementi consentissero di inferire ragionevolmente un pericolo di infiltrazione mafiosa perché qual è il rischio opposto? Il rischio opposto è che se si sottrae un'impresa sana dal circuito dell'economia legale questa impresa va nell'abbraccio mortale del circuito dell'economia illegale alternative non ce ne sono e quindi si rischia un'eterogenesi dei fini degli strumenti di prevenzione amministrativa antimafia che realizza il risultato opposto cioè di incrementare il potere mafioso sul territorio attraverso il controllo dell'economia allora, fatta questa brevissima premessa la mia analisi rende conto di esperienze ovviamente vissute allora, il primo dato che voglio riferire che riguarda il TAR nel quale presto servizio ma non solo è quello dell'attività istruttoria qui è chiaro che questo è un problema di politica del diritto siamo di fronte a una supplenza giurisdizionale è stato scaricato sulla giurisdizione un'assunzione di responsabilità che le amministrazioni hanno giocato sullo schemino ipocrita che il legislatore ha loro consegnato allora, cosa deve fare il giudice che esercita un sindacato di legittimità per verificare la legittimità sub specie ragionevolezza della prognosi di pericolosità deve andare intanto sul piano istruttorio ad acquisire gli elementi sulla base dei quali la prefettura ha ritenuto di esercitare questo giudizio e poi deve a sua volta doppiare questa prognosi di pericolosità cioè deve dire se è possibile o no io vi faccio un ho portato una sentenza recente proprio del Tar Palermo del 2013 che riguarda un caso lo dico subito io non ho fatto parte del collegio e la sentenza è passata in giudicato quindi se ne può parlare come documento di studio in questo caso una prefettura aveva emanato adottato un'informativa antimafia nei confronti di un ente di un ente il cui collegio sindacale era composto anche da un avvocato che secondo il documento della prefettura frequentava soggetti mafiosi interessati all'operazione nuova cupola del 2012 sono stati un avvocato sono stati acquisiti tutti gli atti e cosa è venuto fuori questo si legge nella sentenza è venuto fuori che questo avvocato nel 1992 era stato nominato curatore di un fallimento dell'impresa di calcestruzzi di questi soggetti in odore di mafia come curatore di fallimento il giorno in cui si presenta intanto era stato nominato come curatore dal giudice delegato quindi non era diciamo almeno il conferimento non era sospetto come curatore del fallimento si presenta il 16 giugno del 1992 nella sede della società e lì vi trova i due fratelli mafiosi lui redige un verbale insieme al giudice delegato e al cancelliere questo verbale è il contatto che fa sospettare di infiltrazione mafiosa l'avvocato il quale nel 1992 avrebbe avuto rapporti con i fratelli Tizio e Caio appartenenti alla cosca mafiosa di ora se non ci fosse stato questo controllo questo sindacato di legittimità questo galantuomo sarebbe rimasto con un marchio di infamia che lo avrebbe peraltro escluso dal circuito appunto dell'economia legale peraltro un'altra cosa che ricavo dalla sentenza perché io non conoscevo la materia a proposito del contraddittorio dice la sentenza tale circostanza è stata peraltro ampiamente rappresentata alla prefettura di la quale nell'esercizio della sua discrezionalità non ha però ritenuto né di agire in autotutela né di corroborare sotto il profilo documentale le gravi affermazioni contenute dell'informativa cioè dimmi se hai altri elementi che noi non conosciamo oltre a questo attività istituzionale compiuta assieme perché a questo punto l'informativa probabilmente dovrebbe riguardare anche il giudice delegato e il cancelliere visto che insieme si sono recati nell'impresa Calcestruzzi e allora se questo è il punto centrale del problema perché poi io ho preso una sentenza tra le più recenti ma di questo si tratta cioè il fenomeno di supplenza giurisdizionale il fenomeno di delega alla giurisdizione di ricostruzione di fatti specie di rischio è esattamente questo e allora se questo è il problema io credo che fanno benissimo le prefetture a bagliare criticamente questi elementi ma è fondamentale lo step successivo cioè il sindacato di legittimità formale del giudice amministrativo fondato su elementi sostanziali perché abbiamo ormai tutti assunto consapevolezza del superamento del sindacato di legittimità meramente formale sugli atti e dell'estensione di questo sindacato alla pretesa sostanziale al rapporto giuridico sottostante e quindi in questo caso alla ricostruzione del rischio ripeto il rischio che è qui il professor Fandaga potrebbe veramente illuminarci cioè è una categoria logica prima ancora che giuridica sia in diritto civile che in diritto penale è stata studiata e approfondita ma proprio in relazione alla necessità di legami inferenziali qualificati e non di meri sospetti ora detto questo la per non sottrarre spazio volevo semplicemente fare un'osservazione finale conclusiva di tipo culturale ora ripeto il sono molto contento della presenza del ministro della giustizia perché io credo che questi snodi passino soprattutto poi per il sindacato giurisdizionale perché noi non abbiamo fatto nulla se non abbiamo dato certezza alle attività di polizia e delle prefetture che accertano questi legami il presidente del consiglio ha dichiarato giorni fa che bisogna superare questo attuale sistema di controllo giurisdizionale perché ha detto testualmente in un appalto lavorano più avvocati che muratori probabilmente è vero io non li ho contati sinceramente però è anche vero che se in un appalto non lavorassero avvocati casi come quello che ho appena citato rimarrebbero come dei casi insoluti di eterogenesi dei fini della normativa antimafia cioè di norme antimafia che servono soltanto a rafforzare il controllo mafioso del territorio e dell'economia e allora credo che se il titolo del convegno è ripensare l'antimafia qui l'approccio deve essere duplice deve essere culturale e deve essere normativo deve essere culturale perché dobbiamo capire che l'antimafia non è un brand non è semplicemente un brand è un insieme di norme e di istituti che deve produrre un risultato io voglio richiamare in conclusione anche per ragioni affettive perché era un giurista che si era formato in questa università le parole con cui chiuse nel 1993 Giovanni Torregrossa un libro sugli appalti 1993 piena epoca di mani pulite era sovente il richiamo per risolvere questi problemi alla moralità dei comportamenti chiude Torregrossa il libro dicendo l'area della moralità e quella della giuridicità hanno confini diversi e non è il ricordo della necessaria eticità della norma giuridica che li può eliminare anche in un mondo popolato solo da San Francesco e Santa Chiara il diritto deve essere presente a indicare con la sua sanzione la via retta da seguire così chiudeva un giurista cattolico come Domenico Barbero la sua polemica con Carnelutti sulla ladura della norma giuridica ecco io credo Controregrossa che non è il richiamo alla moralità dei comportamenti con il richiamo alla moralità dei comportamenti che si risolve il problema delle infiltrazioni dell'economia criminale nell'economia legale l'antimafia come criterio di vaglio morale del contraente è appunto ormai un brand di un certo modo di amministrare che si autolegittima non tanto per l'efficienza dei servizi resi ma per il fatto di essere intoccabile e non altrimenti criticabile e sindacabile per il solo fatto della spendita di questo brand io leggevo giorni fa una notizia sulla stampa che riguardava un'indagine della procura della repubblica su un medico e un dirigente di un'azienda sanitaria provinciale per reati anche piuttosto gravi il commento del vertice dell'amministrazione è stato ma io sapevo che erano persone molto impegnate nell'antimafia che c'entra cioè l'amministrazione deve rendere servizi efficienti e in piena legittimità nel rispetto del principio di legalità il fatto che chi si impegna nell'amministrazione per l'antimafia è sicuramente apprezzabile ma non può essere una giustificazione per la deviazione dal parametro di legittimità perché altrimenti salta tutto il sistema e qui ripeto l'appello che faccio all'università ma soprattutto alle istituzioni visto il dibattito che c'è in questo momento è a considerare l'importanza e l'irrinunciabilità di questo momento di controllo giurisdizionale anche perché e qui chiudo veramente il problema della competenza territoriale di cui abbiamo parlato non è un problema marginale perché riguarda la condizione di accesso alla giustizia se l'imprenditore del comune siciliano deve andare a Roma a fare ricorso al TAR non ci va si tiene un provvedimento illegittimo che lo esclude probabilmente a vita quello che diceva il profetto Frattasi è giusto è meno frequente nella realtà che lo esclude probabilmente a vita dal circuito dell'economia legale e se lo tiene perché ha un giudice lontano è difficile da dire quindi anche queste regole apparentemente marginali secondo me vanno considerate proprio nell'ottica di un accesso effettivo e agevole alla giustizia questo non lo dice solo la Costituzione lo dice soprattutto lo dicono soprattutto le direttive ricorsi in materia di appalti quindi se io faccio il giudice e applico le leggi che mi danno ma se il governo deciderà di sopprimere questa fase di controllo probabilmente si aprirà una procedura di infrazione che ci vedrà fuori dall'Europa quindi è con questo auspicio sinceramente che sono molto desiderio di ascoltare il ministro della giustizia grazie dunque ringraziamo il giudice Turumello per la sintetica ma vivace io sono contento perché ho grande estima dei giudici amministrativi e in particolare anche del giudice Turumello quindi diciamo sono contento di questo intervento voglio soltanto in due secondi a diciamo dare sostegno a questa difesa della giustizia amministrativa no non capisco com'è che e vorrei anche questo magari il ministro se ci può dare qualche intenzione com'è che si possa andare dietro superficialmente a modellini americani quando la giustizia amministrativa è un patrimonio gigantesco di tutta la degli ordinamenti europei e che persino gli inglesi alla fine hanno capito che dovranno venerci dietro arriviamo a noi italiani e eliminiamo il giudice amministrativo è paradossale che nel momento in cui si fa l'enorme anticorruzione la trasparenza levata il giudice amministrativo che è la più grande garanzia della legalità dell'azione amministrativa questo per seguire tutto un andazzo che c'è in questi ultimi decenni purtroppo molto diffuso che siccome l'amministrazione deve essere efficienza leviamo i controlli preventivi di legittimità privatizziamo la eliminiamo la politica amministrativa il risultato sapete qual è che l'amministrazione così e i politici possono fare quello che vogliono bene questo non è accettabile a maggior ragione poi se parliamo di poteri come quelli di cui si è discusso quest'oggi scusatemi ma io pure diciamo ho una mia verba ed